Dovendo fare un titolo, salvate il soldato Rogue. Perché un titolo di questo tipo? Perché Rogue non è ancora riuscito ad uscire del tutto dal suo infortunio. È un giocatore talmente emotivo, talmente passionale, che vorrebbe dimostrare tutto improvvisamente, vorrebbe spaccare il mondo. E probabilmente questa incapacità a rientrare gradualmente nel gioco lo rende più vulnerabile. Lo rende vulnerabile sul piano del gioco stesso, perché non è poi stato così preciso in questa stagione. E lo ha reso particolarmente nervoso, perché più di una volta ha pagato con i cartellini gialli il fatto che nella sua mente poteva recuperare i palloni, che il suo fisico invece non sono riuscito a recuperare. Un po' quello che succede quando un calciatore diventa anziano, che ha ancora una chiave di lettura che è quella del fisico che lo asseconda. E poi quando il fisico non lo asseconda, pensa delle cose che non riesce a fare. Ecco, per Rogue c'è da lavorare tantissimo in questo senso, nel ricostruire l'autostima, nel ricostruire la capacità di stare attento alle diverse fasi della partita e probabilmente a gestire questa pressione. Non deve dimostrare tutto subito. Ora ha il tempo per recuperare e se utilizza questo tempo nel migliore dei modi, senza avere l'ansia da prestazione, probabilmente noi riavremo un grandissimo centrocampista. Voto per Rogue 6.